Filippo Laporta, buonasera. Buonasera. E benvenuto, anzi bentornato, bentornato qui nel posto delle parole. Noi ci siamo trovati tempo fa per raccontare il suo saggio pubblicato da Salerno lo scorso anno Come un raggio nell'acqua Dante e la relazione con l'altro. Ci troviamo adesso con Filippo Laporta per raccontare di un progetto che è nato dal Circolo dei lettori di Turino per ricordare Carlo Levi. Il progetto si intitola Tutta la vita è lontano, riscoprire Carlo Levi a 120 anni dalla nascita. Ieri abbiamo raccontato Carlo Levi dal punto di vista artistico insieme con Luca Beatrice. Adesso invece raccontiamo la figura di Carlo Levi dal punto di vista della sua narrazione. Filippo Laporta, lei come ha scoperto la scrittura di Carlo Levi? L'ho scoperta a scuola, era un'antologizzata delle pagine del Cristo si è fermata a Eboli che mi affascinò molto. Cioè l'idea di un intellettuale torinese, ebreo, razionalista che viene spedito al confino in un paesino lucano e si innamora di quella civiltà arcaica contadina si fa mettere in discussione da quella civiltà arcaica beh, io questo l'ho sempre trovato straordinario lo stesso Pavese che andò al confine invece in Calabria che lì iniziava la sua riflessione sul mito però Pavese non si è fatto destabilizzare così tanto ripeto, da quella antica civiltà. invece Levi era proprio affascinato dal simbolismo dal simbolismo mitico rituale della cultura contadina ecco questo mi ha sempre molto suggestionato poi l'ho ripreso e tra l'altro lo voglio dire il Cristo si è chiamato a Eboli che è uno dei libri più importanti del Novecento italiano è un reportage incredibile, non è un rocanzo cioè è un libro ibrido quelli che vanno di moda oggi cioè è un libro tra romanzo, saggio, autobiografia io lo accosterei, non so, a tristi tropici di Levi Strauss a libri del genere cioè è un libro, curiosamente, a suo modo sperimentale ecco, come il pasticciaccio di Gadda è sperimentale in un altro modo perché Levi gioca a mescolare tra loro tutti i generi letterari, anche stili diversi ecco, poi naturalmente ho approfondito questa conoscenza di Levi ho letto altre cose sue quel romanzo splendido forse è il più bel romanzo politico del Novecento che è l'orologio ecco, però prima di arrivare all'orologio che è sicuramente un elemento importante Filippo Lapporti io vorrei soffermarmi ancora su quanto lei ha detto perché è molto importante perché è una prospettiva interessante nel leggere che Cristo si è fermato a Eboli vorrei dire, la scrittura di viaggio ecco, se noi, come diceva poco fa lei ci avviciniamo alla lettura con questo spirito troviamo sicuramente una riflessione diversa nelle pagine di questo libro che cosa ne dice? ma certo, è così tra l'altro adesso pensavo che Carlo Levi ci dimostra come la lettatura italiana è fatta in gran parte di questi libri che ho definito libri di misti Leopardi nella sua antologia nella sua Cristomazia della prosa diceva, attenzione, non ci sono solo i romanzi Leopardi metteva accanto ai romanzi relazioni lei diceva il viaggio, relazioni di viaggio ci metteva le lettere ci metteva descrizioni e immagini ecco, ci sono tante configurazioni della prosa non dobbiamo restare solo al romanzo e quindi, come dicevo prima Carlo Levi mescola cose molto diverse ricerca sul campo perché lui studia quella cultura come un antropologo ma c'è anche il gusto della narrazione perché lui rimane un grande narratore ci sono anche dei momenti di grande lirismo c'è uno sguardo visionario insomma, per me è un libro di grande ricchezza questo proprio lo devo dire le descrizioni dei panorami di questo libro sono straordinarie perché proprio la scrittura di viaggio è questa forse oggi non siamo più abituati a leggere di queste narrazioni di viaggio Filippo Laporta no, no e lui fa un po' quello che mi pare diceva il critico Sklovski per Tolstoi dice Tolstoi anche quando rappresenta un'alba è come se la facesse vedere per la prima volta ecco, è un po' Carlo Levi lui racconta anche veramente le albe e i tramonti lui stava in questo paesino che si chiama Aliano dove è sepolto tra l'altro dove è sepolto sì sì, dove è sepolto e dove una volta d'estate lui andò al Tampo Santo per prendere un po' di frescura di ombra e si mise dentro una bucca dove avrebbero calato una barra lui si è sistemato lì per fare il suo riposino quotidiano quindi Cristo seframaterbo li voglio ricordarlo per esempio fu molto ammirato da una scrittrice indiana importantissima come Anita Desai voglio dire è un libro anche di grande respiro internazionale e poi dico solo una cosa sulla cultura contadina Levi non parla di quel mondo contadino come di un mondo da redimere no? dice dobbiamo portarlo no? dobbiamo uscire dalla retratezza e dobbiamo portarlo così al nostro livello no? del nostro progresso no? è stata un'operazione diversa Levi mi sostiene che la loro elaborazione della sofferenza del lutto il loro rapporto con la vita e con la morte è un qualcosa che deve far parte della modernità cioè la modernità per Levi è fatta di tante voci non c'è una sola voce la modernità è pluralità e tra le tante voci deve esserci anche la voce del mondo contadino con il suo millenarismo con il suo fatalismo ma anche con la sua cognizione del limite che noi abbiamo perso ecco questo mi pare insomma un aspetto decisivo ecco del suo approccio e adesso veniamo al libro che lei poco fa ha citato il libro intitolato L'orologio e qui si apre un'altra pagina un'altra pagina di di Carlo Levi ed è una pagina fortemente politica sì sì è vero lui Carlo Levi era entrato nella cospizione antifascista clandestina negli anni 30 giustizia e libertà era andato in Francia e per questo motivo fu spedito al confino poi ecco la guerra è partito d'azione resistenza lui si ritrova a Firenze e poi cosa racconta nell'orologio che è un libro se non sbaglio del 48 appena dopo la guerra racconta ai noi la brevissima esperienza di governo del partito d'azione con Ferruccio Parri e secondo lui il tradimento dei valori della resistenza ecco secondo Levi quello che poi prevasse fu una una continuità nello Stato nell'apparato dello Stato nell'apparato burocratico eccetera eccetera quindi è il grande romanzo di una speranza politica delusa vi ricordo che il partito d'azione e prima ancora giustizio e libertà che è un po' l'embrione del partito d'azione davvero per me questo è una cosa molto personale ovviamente mi sembra che veramente è il migliore antifascismo perché è un antifascismo che ha una profonda vocazione antitotalitaria ecco ovviamente i comunisti hanno dato un contributo altissimo alla resistenza però nel partito d'azione c'è veramente questa idea libertaria molto forte cioè per Carlo Levi e per il partito d'azione per quella tradizione lì azionista gli individui vengono prima degli apparati l'etica viene prima della politica i cittadini vengono prima dei partiti insomma a me pare che sia veramente la tradizione recentemente nella sua autobiografia Romain Galasso l'autobiografia che proprio è uscita purtroppo quando lui è morto a luglio a un certo punto dice che Romain Galasso era a Firenze da ragazzino e si ricorda gli azionisti e li definisce così loro erano i giusti ecco lì in mezzo c'era anche Carlo Levi eh sì in mezzo c'era anche Carlo Levi e Carlo Levi è questo personaggio straordinario plurale e nello stesso tempo molto singolare scrittore poeta artista veramente ha ha saputo veramente coniugare la parola la narrazione il gesto artistico una forma sicuramente molto molto personale e tuttavia senza voler mai strizzare l'occhio a nessuna situazione ma tirando dritto per il suo per il suo per il suo ideale il suo gusto di essere vero nei confronti della vita lei poco fa parlava di questa sua di questo suo rapporto con l'etica d'altra parte nell'orologio se ben ricordo Carlo Levi racconta anche quella la frattura della società italiana e se prima dicevamo Filippo Laporta che Cristo si è fermato a Eboli è una scrittura di viaggio altrettanto si potrebbe dire mi corregga se sbaglio del libro l'orologio qui il viaggio è un viaggio dentro l'anima dentro lo sguardo di ognuno proprio per andare alla ricerca di qualcosa da raccontare in una maniera utile allo spirito culturale e soprattutto lo spirito politico in questo libro si si è vero che è un viaggio a parte che nel libro c'è un viaggio troppo fisico perché con una macchina in affitto lui va a Napoli ed è un viaggio avventurosissimo tra Roma e Napoli ci mette una giornata intera c'è il pericolo di incontrare i brillanti sembra sembra ombre rosse di John Ford sembra un viaggio con la dirigenza beh è un viaggio anche metaforico certamente e in quel libro c'è la famosa distinzione per cui lei giustamente ha parlato di spaccatura nella società lui dice che nella società italiana ci sono due grandi categorie due grandi famiglie da una parte ci sono i luigini dal nome di quello che era stato il podestà fascista di Aliano e dall'altra ci sono i contadini che attenzione non sono solo i contadini i contadini per Levi va inteso in senso metaforico allora i luigini sono quelli a cui piace comandare e obbedire questa è la tipologia dei luigini mentre i contadini amano quello che fanno quindi voglio dire da questo punto di vista anche un imprenditore per Levi può far parte di questa metafora dei contadini i contadini amano il proprio lavoro e cercano di farlo bene perché da lì nasce l'etica nasce dall'etica dal senso dalla dignità del lavoro ben fatto ecco questa distinzione tra luigini e contadini io direi che però non va intesa in senso rigido questa è la mia lettura ovviamente secondo me attraversa ciascuno di noi andrei a questa conclusione su questa metafora in ognuno di noi c'è una parte che appunto a cui piace soltanto comandare e obbedire e c'è una parte invece che come dicevi esprime un amore per quello che fa insomma un'adesione a quello che fa ecco questa è una distinzione che ogni tanto dovremmo avere a mente però oggi come oggi guardando anche la situazione in cui siamo immersi dal punto di vista politica non solo pensando a Carlo Levi che che ha scritto per esempio parlavamo di libro L'orologio quando lui ripensa i fondamenti stessi dell'idea di Stato e del rapporto con l'individuo questo mi sembra che oggi sia qualche cosa che si sta cercando e come queste parole questi pensieri nella prospettiva del tempo oggi ci parlano sì l'idea dell'individuo diciamo che dal punto di vista politico si potrebbe dire si potrebbe dire che per Levi c'è una centralità della categoria di autonomia l'autonomia dell'individuo ovviamente è un'autonomia responsabile perché l'individuo è sempre immerso in una comunità questo lo spene Levi però in lui c'è il primato appunto dell'individuo della coscienza della coscienza in questo senso allora prima ho fatto un elogio della tradizione azionista perché in fondo che cosa è questa tradizione? è quella benedetta terza forza che in Italia non ha mai avuto il proprio possiamo dirlo tanto spazio insomma era un po' chiusa tra le due chiese simmetriche la chiesa cattolica e la chiesa comunista infatti a un certo punto nell'orologio Levi descrive Ferruccio Parli in Parlamento tra De Gasperi e Togliato invece sembra Pinocchio tra il gatto e la volpe immagine meravigliosa quindi si parla di quella terza forza che da noi ripeto ha sempre avuto scarsa rappresentanza politica ed è incardinata su questi ben individuo l'individuo per Levi non è il borghese egoista no l'individuo è appunto l'individuo capace di dire di no capace di dire no al potere e l'individuo invece capace di dire sì alla vita alla vita nella sua pienezza ecco questa è l'idea di individuo che ha Carlo Levi e ora mi viene in mente anche una cosa perché domani io parlerò certo di Carlo Levi ma soprattutto di un aspetto del Carlo Levi medico di cui non si parla tanto perché qui faccio una bieca autopromozione diciamo che due mesi fa ho scelto questo mio libro su tre medici scrittori Levi non ha mai esercitato la professione laureata in medicina per l'adaliano però tutti vanno da lui a farsi curare quindi lui ad aliano si trova quasi costretto a fare il medico nel paesino ecco diciamo il mio libro poi inaugura una collana che si chiama cure eccetera eccetera perché è interessante questa faccenda che è medico perché Carlo Levi l'ho detto prima certo è tutto dalla parte della civiltà contadina però non è un critico della modernità tipo pensatori reazionari come Mircelli Adder e Negge Non grandi territori fondamentalmente reazionari no Carlo Levi da una parte è affascinato dai miti della cultura contadina ma dall'altra parte è un medico quindi a un certo punto in una rivista fa un ritratto veramente pieno un ritratto commosso di Spallanzani di Lazaro Spallanzani che è stato un grande scienziato che ha scoperto delle cose importantissime sul processo di gestione ecco quando parliamo di Levi della sua opera bisognerebbe sempre tenere presente questi due elementi come dire contadino e scienziato da una parte lui ha una pagina bellissima sulle streghe e su tutto l'irrazionale sui monachicchi che sono gli ignomi delle campagne però poi Levi è uno che si batte anche per ampliare la democrazia per i diritti civili ecco dovremmo sempre tenere insieme queste due anime dello scrittore lei tra l'altro sarà ospite anche per quanto riguarda questo ricordo questo progetto dedicato a Carlo Levi venerdì 11 insieme con Luca Beatrice della Leuvental sull'argomento poesia e verità un viaggio nell'opera di Carlo Levi ricordo che tutta la vita è lontano riscoprire Carlo Levi a 120 anni dalla nascita è nato da un'idea del circolo dei lettori in collaborazione con diversi enti culturali di Torino e non solo ma prima di salutarci Filippo Laporta qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? ah questo non me l'aspettavo questa domanda allora il libro che mi fa compagnia guardi il libro che mi fa compagnia è un classico perché io per Repubblica ogni mese faccio il ritratto di un grande scrittore del Novecento quindi io mi devo reimmergere in quello scrittore da una settimana sto rileggendo La coscienza di Geno di Svevo trovo che sia un romanzo immenso noi italiani abbiamo un po' un senso di inferiorità rispetto ai modelli stranieri diciamo Svevo è grande ma quasi come Proust quasi come Joyce eccetera eccetera no non è così anzi ecco le vorrei dire questo che in Svevo troviamo tutti i grandi temi inizio del Novecento quindi tutti i grandi temi della cultura della crisi la dissoluzione del soggetto l'indeterminatezza della realtà però questi temi in Svevo sono sciolti dentro un racconto di estrema semplicità ecco a questo non sono mai arrivati Proust e Joyce e neanche Musil io Musil lo adoro l'uomo senza qualità ma per leggere Musil Musil uno deve avere una cultura mostruosa deve conoscere Wittgenstein ecco no Cosvevo tutto questo non è necessario ritrovati grandi temi della nostra cultura però ripeto dentro una lingua di un'assoluta semplicità e affabilità comunicativa nei giorni scorsi abbiamo ricordato i cent'anni dall'uscita dell'Ulisse di James Joyce lei l'ha citato perché non possiamo non parlare di della coscienza di Zeno e di Italo Svevo e non inserire e non inserire Joyce il quale ha aiutato insieme con Montale lo stesso Svevo a pubblicarlo ecco che filo rosso c'è tra le due opere la coscienza di Zeno e Ulisse e l'Ulisse di Joyce sì lei ha ricordato bene infatti Joyce aveva dato lezioni di inglese a Trieste a Svevo e lei ha ricordato bene Montale perché quando uscì la coscienza di Zeno nel 23 non se la filò quasi nessuno e ci volle una recensione entusiasta di Montale due anni dopo quindi giustissimo ma dunque cosa c'è in comune beh è chiaro che Joyce è andato oltre Joyce come sappiamo ha inventato il flusso di coscienza diciamo che in Zeno non c'è troppo il flusso di coscienza c'è più c'è più il monologo interiore diciamo è chiaro insomma diciamo che Joyce ha sperimentato di più eccetera però io insisto su questo punto quindi li accomuno dentro la grande cultura della crisi questo lo sottolineo però insisto su questo punto che che Joyce di cui io amo di più vi dico la verità i racconti dublinesi nell'Ulisse il romanzo vertiginoso è il romanzo vertiginoso però c'è qualcosa di erudito e di professorale ecco c'è anche questo mentre in Svevo questa cosa non c'è per niente e poi adesso mi viene una cosa lei ha citato Luca Beatrice la pittura è interessante l'idea di realtà che c'è in Levi che non è non è l'idea di realtà del neorealismo io prima l'ho accostato un po' temerariamente a Gadda ma perché perché per Levi la realtà che cos'è la realtà è creazione di realtà secondo Levi il poeta l'artista non è che imita le cose ma crea una realtà ecco poi questa realtà certo deve essere fatta bene deve essere potente diciamo però quindi deve renderla deve renderla mitologica la realtà esattamente deve renderla mitologica in modo tale che poi anche altri vi si possano riconoscere cioè diciamo in questo senso l'arte veramente la letteratura per Caronevi è rivelazione di qualcosa è rivelazione di qualcosa che vede lo scrittore ma nel momento in cui lo vede lo rappresenta permette a tutti gli altri di rispecchiarsi in questa realtà inventata e qui sono mi sembra questo il discorso da fare grazie davvero del tempo che ci ha dedicato Filippo alla porta grazie a voi buona serata buona serata grazie grazie grazie